Susan Bayer, Festival dell'Eccellenza al Femminile, ci racconti la tua sfida? Sfida già è un termine abbastanza, un po' troppo forte diciamo per questa avventura, perché quando c'è di mezzo il mare, l'oceano, sfida, non mi piace moltissimo. Comunque è un'avventura, c'è una sfida. Penelope è il nome della mia barca, è una barca un po' particolare, di soli sei metri e mezzo, per attraversare l'Atlantico in solitario. E Penelope, ecco forse la sfida di Penelope, nel senso Penelope che anziché stare a casa a tessere, finalmente parte verso altri lì di molto più lontani. Che cos'hai di strumentazione che ti aiuta nel tuo viaggio? Allora ho un GPS, quindi un sistema per posizionare, che mi dà la mia posizione, e poi un'elettronica con gli strumenti per la navigazione da un'autopilota, informazioni sul vento, vari dati, velocità della barca, eccetera. Però appunto nessun collegamento con la terra, nessun telefono, né satellitare, né internet, niente. Quali sono le varie tappe del tuo viaggio? Adesso vado fino alla Gran Motto, vicino a Montpellier, via mare, poi carico la barca su un camion, vado alla Rochelle, un mese di preparazione e poi si parte. La regata prevede una tappa a Madeira e poi prosegue diretta verso Bahia. Susi, in bocca al lupo, grazie, porta il vestillo del Festival dell'Eccellenza al Femminile fino a Salvador de Bahia per noi. Grazie mille. Lo farò con onore, grazie a voi. Grazie mille.